Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Umone dei Cubi Il 99esimo ragazzi, siamo agli sgoccioli, il prossimo episodio sarà appunto il 100 Vi dico subito prima di cominciare che l'episodio 100 richiederà almeno 2 o 3 giorni per essere preparato Quindi vi chiedo scusa se dovete almeno 2 o 3 giorni, ripeto almeno perché saranno probabilmente di più Vi chiedo scusa ma sarà così In questi 2 o 3 giorni ci sarà una miniserie con dei canali emergenti e una serie anche con dei canali un po' più grandi Infatti con XZers sto per entrare nella Ultra Hardcore Lite che è una serie che sta facendo lui E sto anche cominciando un'altra Ultra Hardcore Altra Ultra Hardcore, wow Con degli altri canali un po' più piccoli che comunque voglio aiutare a crescere perché come sono stato aiutato io a crescere Tutti quanti meritano di avere una possibilità E penso che se un giorno diventerò un canale abbastanza grande farò un network anche io per far crescere tutti quanti E allora nel frattempo, nel frattempo cos'è che devo fare? E allora preparare delle pozioni ragazzi, delle pozioni di velocità, giusto? Ok, queste qua E adesso vi spiegherò anche perché Allora prepariamo giusto queste pozioni Aspettate che cavolo Ho veramente troppe cose nell'inventario Ok Perché in questo 99esimo episodio di un mondo di cubi Andremo in una nuova zona E non sto dicendo nuova mappa Perché molti di voi potrebbero arrabbiarsi Perché avevo esplicitamente detto che non avrei creato un nuovo mondo E infatti non creerò un nuovo mondo Resterò in questo E però andremo in una nuova zona Perché io questo mondo non lo sento più mio ragazzi Non so cosa dirvi Mi spiace doverlo dire ma Non sento più mio questo mondo Non vedo più Non mi piacciono più le costruzioni Non è Anche il cane adesso si è di nuovo bugato Perché ho cambiato account Alla fine era un bug dovuto al cambio dell'account ragazzi E niente Quindi mi spiace Nel frattempo vado a fare un piccolo avviso Ovvero Questa cosa qua Ce la prendiamo E ce la portiamo con noi Perché questo è il nostro libro importantissimo Il nostro libro degli iscritti Che è stato aggiornato il 7 agosto Il mio compleanno Abbiamo raggiunto i 200 Adesso il prossimo traguardo sarà il 500 E siamo già a 205 Non 204 Scusate Fatto E questo qui ce lo portiamo con noi I saluti Li faccio subito I saluti di oggi sono per Federico Felicetta Alex CRT Matteo Venezia E Matreius76 Inoltre ricordo a tutti quelli che hanno chiesto di essere salutati E non sono stati salutati Di guardare i video precedenti Perché io ho letto tutti i commenti Sono sicuro E non è che non vi saluto È che siete già stati salutati Quindi non vi posso più risalutare E detto questo La pozione dovrebbe essere pronta Adesso vi spiegherò anche perché preparo delle pozioni Beh Ve lo posso spiegare anche subito perché No Stupido bug Dele pressure plate E Dov'è Dov'è Ok Canna da zucchero Sì canna da zucchero Zucchero basta Scusate Per poi delle pozioni in velocità Perché appunto Ci attende un viaggio Perché non va Ok Non va Pozione strana Ok interessante Ma dovresti andare Non si faceva così vero Qualcosa mi dice Di no Aspettate Se bacio così parte Ah magari ci va più zucchero Aspettate Proviamo un po' così Ce la fai? Ma cosa sta laggando? Non capisco Forse è lentissimo Semplicemente Ok 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 È stata una cosa Veramente molto lenta Non ho capito neanche io perché Però va bene Ha funzionato E Questo lo lasciamo qua Senza motivo Prendiamo Un paio di cose Devo aggiustare un attimo L'inventario Anche beh Il piccolo di pietra Lo posso lasciare Vado a dormire ragazzi Perché Devo appunto far vedere Alcune cose E Voglio ringraziare tutti quelli Che hanno commentato sotto Il mio ultimo video Che mi hanno fatto gli auguri No Di nuovo il bug del letto Ma guardate È pieno di bug Che sta a fare ragazzi Incredibile Adesso devo riavviare minecraft Scusate E rieccoci ragazzi Scusate Ma vedete che questo mondo È buggatissimo Tra l'altro Quindi Vedo proprio che È il momento di trasferirsi E Tra l'altro Adesso provate a indovinare Che bioma mi è uscito Perché Come sapete Ci sono tanti biomi E uno può essere più o meno fortunato E possono uscire diversi biomi No E beh Io sono stato sfortunatissimo E immaginate che bioma mi è uscito Non vi dico niente Provate a immaginare voi Basta Non dico altro Pozioni di abolezza Ci servirà Beh ma Faremo altri salti Comunque in questo mondo Perché Ci sono molte cose Che ci servono ancora Comunque avete visto Il bug della process plate Il bug del letto Veramente una rovina Questo Povero Minecraft È stato rovinato Mi spiace Adesso vedrete Che cavolo Abbiamo Che cavolo di bioma Mi è uscito Appunto Nella vostra testa Provate a pensare Che cavolo Mi può essere uscito Ti andate a indominare Quando ci arriviamo Vedete Non so Può essere uscito Giungla Può essere uscito Taiga Può essere uscito Qualsiasi cosa Non è uscito Miceto Non è uscito Miceto Perché qualcuno di voi L'avrà pensato sicuramente No Miceto Ci andava Un sedere Così Cioè Crei un portale E ti esce subito Il miceto Mamma mia No Che poi Micelio Non so Dove lo chiamo Miceto Boh No Non di qua Perché di qua Si va nel Nell'end Scusate Troppi portali Ok Di qua Come potrete vedere Cominciamo Abbiamo la nostra pozione Così corriamo Ho Creato Questo corridoio Che si ricongiungeva Quello che Si trovava Uscendo di casa Del nether E adesso vedrete Dove arriviamo E Dai dai Vedete che con la corsa Faremo molto più in fretta La corsa sta già per finire No Veloce 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 Corri 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 Forza Perché rallenti dopo un po' Però Così siamo molto più veloci Che figata Ok Qua vedete che abbiamo Allargato un pochettino Ah Lentissimo Veloce Ciao pigman Siamo amici Non mi toccare Grazie Mangiamo una bella carota E ripartiamo Vum Che figata Corre così ragazzi E' veramente una figata Assurda E qua c'è un bel mare di lava Quindi vediamo di non caderci dentro Speriamo che non ci siano dei ghast Maledetti Qua come vedete Ho reso più sicuro il ponte E infine Siamo andato dalla fortezza Dalla fortezza Ho creato una piccola zona Che adesso vi faccio anche vedere Spendiamo questo fuoco E ci siamo andato dentro Puntualmente Ok ho creato questa piccola porticina Come c'era già Però l'ho fatta in cobblestone Quindi adesso è molto più figa E adesso si sale di qua E niente ragazzi Adesso vi faccio vedere Aspettate con calma Prendo Un'altra Un'altra pozione di velocità Mi sembra di sentire una Blaze No Non è sembrato di sentire un gatto Ok ragazzi Siamo arrivati Eccoci qua Questa è la zona che ho fatto Molto semplice Qua c'è un portale E il bioma Che c'è uscito è Un'oceano Cioè ragazzi Il bioma più stupido che c'era L'oceano Perché l'oceano Perché Perché ragazzi Non voglio l'oceano io Non lo voglio Assolutamente Ok Impiliamo i nostri secchi Così posso togliere Questa ossidiana Ok Adesso Qui da qualche parte Ve ho trovato Va quel paese Mamma mia E Avevo trovato una cosa Adesso vi faccio vedere Se riesco a prendere Quel pezzettino ossidiana Che lo voglio Tutti i costi E avevo trovato un'isolotta E ho cominciato già a fare qualcosa Su quell'isolotto Perché qua probabilmente Si svolgerà La Nuova stagione Di un mondo di cubi La seconda stagione Di un mondo di cubi Perché infatti Dopo l'episodio 100 Cambieremo Zona Come ho già detto E è arrivato il momento Ormai ragazzi Di cambiare zona Perché Cioè Era necessario Era necessario Mi spiace Ma Devo girare un po' intorno Perché c'erano tanti isolotti E non mi ricordo sinceramente Qual era quello giusto Proviamo a andare di là Anche se Non mi ricordo Forse è di qua Dai proviamo di qua Proviamo Massimo torniamo indietro Al massimo ci perdiamo E moriremo Tanto abbiamo Cose sufficienti Da riuscire a perderci Si Potremmo perderci Tranquillamente Riuscire a tornare indietro E di qua Sembra di si Sembra di si Si E questo qua L'isolotto Di cui vi parlavo Ragazzi Qua come vedete Ci sono varie isole E lì Abbiamo la nostra isola Sulla quale costruiremo Le prime cose E ditemi Cosa Si qua Si svolgerà la seconda stagione Di mondo di cubi Lo so Sembra una cazzata Ragazzi Ma Ho deciso che sarà così E Credetemi E' una bellissima mappa E' nuova Non so se si spawneranno cavalli qua Penso che non si spawnerà nulla Però Quello che si spawna No no dove vai Barca maledetta E Adesso vi faccio vedere un pochettino Ho fatto una piccola zona Ho fatto spawnare un pollo Importantissimo E niente Ho fatto questa piccola zona Là come vedete C'è Sono altre isole Che non ho neanche ancora esplorato Giustamente Perché Sono appena arrivato Non è che ho registrato Così senza di voi Dove cavoli finita la enderpearl Oddio Guardate che figo Sott'acqua Si vede tutto tranquillamente Molto bello E Tra l'altro Mi release action Ragazzi Che è il programma Col quale sto registrando In questo episodio Funziona molto bene Non so se l'ho già detto Perché sono smemorato Ma Sto registrando con Mi release action Ragazzi E funziona veramente Molto bene Qua c'è una caverna Interessante Una caverna Una caverna Una caverna Sono tentato di andare avanti Però non ho torce Direi che ci fermiamo qua Vero Eh si ragazzi Ci fermiamo qua Mi spiace Mi spiace Ci fermiamo qui Tra l'altro Noi abbiamo anche Trovato i mostri Cominciate anche bene Abbiamo del cibo Che non sia crudo No Quindi bisogna far cuocere Questa Bella bistecca E appunto Bisogna fare un po' di cobblestone Quindi ragazzi Qua comincerà una nuova Come se cominciassimo da zero Ragazzi Beh abbiamo già La motua in diamante Però È come se cominciassimo da zero Perché qua Voglio fare Delle cose Che Non si vedranno In tutte quante le serie Perché Per carità Qualcuno di voi Cioè per carità Qualcuno di voi potrebbe già Aver creato un mondo E aver trovato Il bioma Questo bioma qua L'oceano Subito così Ed è uno dei biomi più difficili Perché non ci sono alberi Non c'è cibo Non c'è nulla Bisogna arrangiarsi Con quello che uno ha E infatti Adesso vi dirò Che cosa fare Allora Avrete dei semi Usatevi per fare una coltivazione E qua avete anche un albero Quindi utilizzatelo per fare Il legno che vi serve Là ho cominciato già a fare Un piccolo apporto Perché sono già venuto qui Ragazzi Perché ho fatto Il portale off camera Appunto Poi sono entrato E non ho visto nulla L'ho detto se Cioè provo A semplicemente rifarlo Non a rifarlo Scusate A controllare Se trovo qualcosa Non so perché oggi Confondo tutti quanti i termini E appunto Ho trovato quest'isoletta E se oggi sono Stanchissimo ragazzi Non capisco più nulla E qua stavo facendo un ponte Giusto? Si però ho detto Cavolo non sto registrando Devo cominciare la registrazione Quindi Qua c'è già una cesta Ho messo dentro un po' di materiale Ci mettiamo dentro Questo Questo Questa No Tutto Facciamo tutto Tutto quello che riusciamo a mettere dentro Lo mettiamo dentro Ok Questa ci servirà La palla ci serve Questo ci serve Questo ci serve Questa ci serve Il bombino ci serve Il libro ci serve A tenere qua Legno Già con le lanterne Semi Li prendiamo Sto dividendo molto velocemente Ragazzi Ok Cartelli Questo qua ci serve Ok Crafting table E facciamo una bella Fornace Dove metteremo a cuocere La nostra E i nostri cibi Ragazzi Questo Questo gameplay vi piacerà Sono sicuro Perché ho tantissime idee Sono Diciamo un po' più Ah qua abbiamo il carbone Si avevano il carbone da rompere Ma si usiamolo Ehm Ho preso materiali Totalmente a caso Sono quelli che avevo Nel scorso episodio Non è che mi sono Regalato delle cose strane Ok ragazzi Guardate che carino il pollo Crescerai un giorno Vero? Tu crescerai Farai tante uova E popolerai Questa gallina Si Che è questa isola Ho deciso Questa qua ragazzi È l'isola della gallinara Ho deciso Ho deciso Che questa qui È l'isola della gallinara Ok qua mettiamo Nel altro carbone E cominciamo appunto A esplorare E a costruire 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 Perché appunto Faremo già qualcosa In questo episodio Perché voglio appunto Far vedere che Ho un sacco di buone intenzioni Per questo Per questa serie Creerò veramente Qualcosa di epico Ehm Ripeto Quel mondo Il nostro vecchio mondo Non è che sparisce Ce lo dimentichiamo Lo continueremo a usare Ma Ehm Ci staremo meno Voglio concentrarmi Su zone nuove Basta stare sempre Nel passato Ragazzi Torneremo Porteremo avanti I progetti Magari però La seconda serie La seconda stagione Si incentrerà Principalmente qua Su questa nuova isoletta Ehm Ho anche già portato un letto Come vedete Avevo già fatto Una piccola stazione Ehm E niente Pollo dai Cresci per favore Cresci che voglio Le tue uova Dai So che puoi crescere So che puoi crescere Allora dormiamo Nel frattempo Non si può dormire Fantastico Facciamo una piccola stradina Che porti Dal porto Alla Appunto Alla casa Quindi da qua Parte Ok E facciamo una stradina Che deve essere Fighissima Logicamente Perché voglio fare tutto Voglio tenere Alto lo stile Diciamo Alto lo stile Dormiamo Dormiamo Bravissimo E non ci saranno neanche Tanti mob Perché su un'isolotta Così C'è tanto Che c'è sto pollo No Dai Cresci Pollo Su Che lento Lento pure Cresce sto pollo Torci ne abbiamo Ehm Ehm No Non abbiamo Non abbiamo torce Quindi dobbiamo Dovemmo costruircela Ragazzi E' bello anche Doversi rifare tutto A capo Secondo me Cioè E' una bella sensazione Anche se voi Se avete un mondo Che Provate a rifarlo Provate a ricostruire Certe cose Quali possono essere La prima casa Ste cose qua Perché sono Belle emozioni Da provare In questo gioco Allora Prendiamo Altra terra Fantastico Ok Ehm Hm Devo Progettarmi a Tino La casa La farò Completamente Random Questa volta Veramente Viva La random Ragazzi Viva La random Qua Ci sarà Un balconcino Non so Perché Ma qua ci sarà Un balconcino Ok Balconcino Qua ci sarà Il giardino Che faremo In seguito E qua ci sarà La casa Che andrà Da qui Qua Allergheremo Ancora un po' Sarà Più o meno Così Lo so ragazzi Sto facendo Praticamente Un cambio Molto drastico In questa serie Però Credetemi Non vi deluderò Non mi sembra Che vi ho mai Deluso Con delle costruzioni Quindi Ditemi voi Cosa ne pensate Se proprio Volete tornare Al vecchio mondo Ma Vedrete che cambiare Darà i suoi frutti Allora E Ok Aspettate Magari un po' Più grande Di qua Ok Lo facciamo qui Perfetto E Oh qua C'è stato Un errore di generazione No Mi sono sbagliato E Allora Vediamo 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 Qui Ok Qua Facciamo il perimetro E qua Portiamo avanti La nostra casetta Ragazzi E Faremo Molti meno tagli In questa Seconda stagione Che non è ancora Cominciata Ragazzi Però vorrei cominciare Magari la seconda stagione Con già La casettina Pronta Magari Tra l'altro Siamo già A qualche minuto Di video Quindi tra poco Dovrò chiudere Tanto per cambiare E Utilizzerò la clay Utilizzerò la clay Ragazzi Devo Soltanto Andarla a prendere Sì Mi sembra giusto Vediamo un po' clay Dove sei A caccia di clay Ragazzi Molto bene Abbiamo del cibo Sì Grazie Mangia Mangia Sento dei mostri Sento dei mostri Decisamente Prendiamo Tutta la nostra clay Forza Forza Dai 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 Spero che vediate Ma anche se L'elmetto Ha la sua efficienza Ok Cioè Non è completamente Efficiente Questo è il metto Anche se E' già buono Dai sali 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 Non soffocare Ok ragazzi Fantastico Allora adesso Cominceremo a fare appunto Qualcosina E dobbiamo scegliere Il colore della clay Il colore della clay Penso che faremo così Piccolo trucchetto Bomb meal Che si trova Ammazzando gli schietri Bomb meal Lo buttiamo in terra E distruggiamo tutto Otterremo semi Fiori Ok Ancora Ok Fantastico ragazzi Adesso vi spiegherò Perché sto facendo Questa cosa strana Prendiamo tutto Ok Anche qui E con i semi Con i semi Scusate Con i fiori rossi Farò il colorante Per la clay Ok Ben 10 Pezzi di colorante Clay Ok La dobbiamo far cuocere Quindi così Puoi cuocere te? No tu non puoi cuocere Mi sembra giusto Vai Carbone Dobbiamo anche Fare un impianto Quell'impianto Per trasformare il carbone Lo dobbiamo rifare qua Ragazzi Ok Vai Buttiamoci il carbone Dentro E così abbiamo La nostra clay Adesso Che cosa Quale altro blocco Utilizzeremo Utilizzeremo questo Già che ce l'ho Ok Vediamo un attimino Facciamo la porta Si Così Perfetto Ok Allora ragazzi Fatemi pensare Faremo le colonne Sempre questo materiale Sarà Alto 1 2 3 Facciamo 5 Di altezza 3 4 Anzi 4 Perché 5 Ok Anche qui Facciamo 1 2 3 4 Anche qui 1 2 3 4 Forza Forza 1 2 3 4 E adesso Ragazzi Facciamo anche A fine episodio Lo screenshot 2 3 4 Per la miniatura Perché da adesso Si possono utilizzare Anche le miniature Nei video No La facciamo qui La colonna Ok 1 2 3 4 Ok Giusta no Spero No Sbagliata 2 3 E 4 Adesso poi vi spiego Perché ho sbagliata Perché deve restare Spostata di 2 Dalla Porta Quindi 1 2 3 Ok No C'è un blocco E 2 Si 2 blocchi Giusto Giusto Quindi anche qua 1 2 3 4 E il resto Ci aiuteremo Con la nostra Clay rossa Si faccio anche vedere Argilla E si che è clay Scusate Giusto Comunque Facciamo così Facciamo così E ci viene appunto La clay colorata Bisogna colorarla A pezzi di 8 Ok Quindi Da qui partiamo Guardate che bella Che è la clay rossa Ragazzi E con questo rosso Fa anche un po' Casa tropicale Secondo me E Ho avuto un piccolo Colpo di genio Per chiudere l'episodio Ragazzi No Perché la terra L'ho posata Mi serviva Ok Andiamo qua E qui faremo Lo screenshot Non so Penso che qua Si possa fare Un bello screenshot Ok Adesso vi spiego Anche cos'è Come si fa E Ok Ok Posiamo tutta questa roba qui Tra l'altro Sto usando un programma nuovo Quindi non so di preciso Come si fa lo screenshot Però Adesso ci diamo un'occhiata Ok Queste qua sono le Basi Della nostra casa Ok Ho controllato Col programma Che utilizzo io Serve F12 Per fare lo screenshot E voilà Fate lo screenshot Ragazzi Questo appunto Sarà lo screenshot Di oggi Spero che Questo nuovo Inizio Vi fosse piacere Che non sia Una cosa brutta Ditemelo Se siete rimasti Delusi Se volevate Tutto Se volete Continuare La Ma credetemi Che qua Sarà molto più bello Perché Dovemo fare Questo Ma In Cioè Dovemo fare Quello che abbiamo fatto Il nostro mondo Ma in un'isolota Minuscola E quindi Ragazzi Direi che Per questo È visto Tutto Il ponte Lo faremo Poi nel prossimo Video Io vi ringrazio Spero Ancora volta Che vi piaccia Questa idea Che ho avuto Non mettete Semplicemente Non mi piace Se non vi è piaciuta Ma provate A dirlo A dire Non mi è piaciuto Non mi offendo State tranquilli Quindi ragazzi Detto questo Io vi ringrazio E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao ciao